Cosa vuole un po' di coscienza? Dunque, ricui io, ma ci vuole un po' di coscienza o no? Ricciamare a uno, me lo dare, avendo 5 figli. Disgraziato molto. Allora il mio padre si sa partecipare a quello che aveva per poter raccimolare le soldi e lasciare anche nelle condizioni che con il sussidio non ci facevano niente. Il sussidio aveva solo un razionamento della farina, della pasta e delle cose che con questo non ci potevano toccare. Perché qua non avevano 100 grammi di pane. chiedeva perché il mio zio era Cepunte. Ha anche il sorriso? No. No. Pace Cepunte. Come Cepunte? Ravio e Maria Lecce che avevano... Io sono moregana. Ah, sei moregana. No. No. Ah, bene. Allora. Non facevano finta che... Dunque, parliamo Cepunte. Ma padre, durante l'ultima guerra, fu richiamato. Avendo 5 figli. Perché aveva 4 figli e una era la mamma. La mamma si sposava in seconda nozza con ma padre. e allora, va a fare tu qui 100 grammi. Non ci puoi passare la giornata. E 100 grammi la pasta. Non ci puoi passare la giornata. Allora, da provvedere, ho... 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 come si chiama? Renzallazzo, va. Con il contrabbando. Contrabbando. Ma ci vogliono soldi. Ma ci vogliono soldi. Ma ci vogliono soldi. Perché chiede... chiede che avevano la farina altissima, chiede... è... secondo... un estino. Però l'altro era con Cia Banna. Cavare 5, 6 volte superiore. E allora, quando tornavo, sono andato, sento il mio tuo mazio padrino. no, il mio zio veniva, non il mio zio, ma il mio zio veniva. E allora ci dice, zio, sai, mi fa tanto piacere. E lui dice, sembrava essere una manuzza di aiuto, perché si è senza una lira. Ora il mio zio, come si chiamava, Angelo. E Angeli ricevesse, non ti posso dare aiuto. Meglio prestava sordi e con alti interessi. Vero che un uomo non posso dire e parlare nè io. che un uomo non posso dire. che un uomo non posso dire. E allora, che un uomo non posso dire.